Mamma! Mamma! Che è successo, mano della mamma? Guarda mamma, hanno fatto il diario con le facce nostre Ci stai tu, ci sto io, c'è Antonio, stanno tutti, guardalo! Dammi qua! E questa io sono? Sì, hai visto che bello? E io così grossa sono? Non sembro io! Ma no, sembri tu, è bello! Vieni, guarda come mi ha fatto Tofil! Bella però dai, vediamo! E io dove sto qua? Non ci sto in copertina! Ma tu non stai in copertina, ma stai dentro, ci sono tanti papà! Io voglio stare in copertina, sono papà tua! Hai messo la fidanzatina tua e non metto papà tua! I miei capelli sono lisci, non sono crespi come questa! C'è anche la nonna! Perché mi avete vestito di nero? Io voglio vestito di bianco! Ma non l'ho colorato io! Io invece voglio il vestito giallo! Sì, ma è una cosa per ridere! Giallo, giallo! C'è Antonio, ci sono tutti! Scusami, a me chi ti ha detto di farmi con la fionda? Io volevo la pistola con i piombini! Esigo i capelli lisci! Poi i capelli qua sembrano tutti di Cristinio, invece i miei sono puliti! La copertina voglio, non la quarta pagina, la copertina! Vai a fanculo! Datemi una pistola a piombini! In questa foto sono truccata malissimo! Giallo, giallo! Ma perché qua stanno all'infradito? Io ho gli zoffoli! Per favore, truccatemi bene, altrimenti vi denuncio eh! Visto che il mio settimo marito era un avvocato! Butta subito quel diario! Non lo voglio vedere più dentro casa mia! Butta subito! Esigo i capelli lisci! La copertina! Esigo i capelli lisci! Per favore, compratevi tutti il diario! Così li mando a fanculo dopo che divento milionario! È tutto il video! Napoli! Non! Non è tutto il video!